Grazie a tutti, ovviamente grazie a Platform e Siemens per l'invito, noi partiamo, sono qui con l'architetto Gandini che è il socio di FL Architetti, partiamo da due esempi, uno è quello che è pubblicato sulla rivista Platform, l'altro è un altro intervento a scala diversa e proprio per parlare di, partiamo da prima, dalla spazialità, la spazialità per noi è intesa come un concetto che provoca nell'abitante o comunque chi visita, lo spettatore che cede all'edificio, una sensazione unica, l'idea è proprio quello di avere un rapporto particolare con lo spazio e questo, ne parlavamo prima anche con altri architetti, quello di cui si è parlato poco è proprio la committenza, cioè il rapporto con la committenza che poi produce attraverso l'idea della nostra architettura che va a plasmare degli edifici o gli interni degli edifici, quindi il primo rapporto quasi psicologico è proprio quello con la committenza in cui si cerca di interpretare le esigenze e tutti quelli che sono i propri desideri per poi trasportarlo nell'architettura. Parlare di spazio significa parlare quindi di percezione, quindi di punti di vista, di dinamiche che si generano all'interno vivendo lo spazio sia interno che esterno. L'architettura deve rispondere quindi in maniera corretta, cercando di rispondere in maniera corretta, la buona architettura e anche personale della vita che si svolge al suo interno. Quello che ci tendiamo a dire anche è che la fisicità dell'architettura però è anche luoto, cioè il rapporto tra luoto e l'oggetto realizzato che definisce quello che è l'abitare. Nei due casi studio che presentiamo, uno è un loft che è realizzato in una villa del 600 sulla collina torinese, mentre l'altro è proprio un'architettura costruita nuova, una nuova architettura che in realtà è un'azienda agricola con annessa residenza privata. Malgrado le esigenze siano ovviamente molto diverse, in entrambi i progetti si è creata di cercare delle storie, in modo che ci si relazionasse in modo... entrambi le committenze desideravano relazionarsi in modo quasi sorprendente e quasi fluido con l'ambiente che li circondava e con la vita che volevano vivere all'interno di questi spazi. Nell'oft per esempio l'ES c'è questo spazio unico, tutti gli arredi sono disegnati su misura, sono ad hoc, cioè non c'è niente, c'è da questo cammino scultura a questo tavolo che senza soluzione di continuità per 3,60 m prosegue l'elemento cucina. C'è questa parezza di policarbonato che è quella che va a distinguere, separa in modo un po' effimero le aree principali della casa pur lasciandole aperte. La camera da letto per esempio è posizionata al di sopra di questa parete e questa separazione permette sia l'ingresso alla casa sia di attraversarla per poi accedere ad aree più private che sono la sala da bagno e la sala cinema. Quindi diciamo che sono entrambi l'idea di case aperte pensate per vivere in modo condiviso la maggior parte degli ambienti e però la capacità anche di trasformarsi e di sorprendere durante le ore del giorno e della notte. Per proseguire chiaramente parlando sempre di integrazione e sostenibilità è chiaro che all'interno della storia dell'evoluzione dell'abitare ci sono dei periodi che hanno portato a dei cambiamenti. Uno di questi sicuramente è stata la pandemia che ha procurato sicuramente delle esigenze diverse in cui sempre di più il rapporto con l'esterno, il rapporto con la casa stessa, con noi stessi, ha fatto sì che si riportasse praticamente a spostare di nuovo la centralità dell'uomo nella sua misura, nella concezione e quindi nel suo rapporto anche con il rapporto con i materiali, con i vari elementi, ma la stessa cosa della durata, il comfort, che sono stati tutti poi portati a misurarsi di nuovo con l'uomo. Simles per noi è questo concetto, cioè un nuovo progetto che sia di interno, che sia di esterni, che sia di nuova costruzione o di ristrutturazione, mette in tensione una serie di fattori, quindi la memoria storica, il paesaggio, le pratiche d'uso uniche, personali, alternative dello spazio, le dinamiche e la qualità della vita. Un progetto quindi Simles Plosures senza soluzioni di continuità interpreta queste forme, sia urbane che di paesaggio, ma anche gli spazi funzionali interni e le dinamiche d'uso dello spazio per poi ricercare le soluzioni formali più idonee. In questo senso, in questo processo, secondo noi interviene proprio l'architetto, che piega gli esiti e ne risignifica la spazialità. Quindi il progetto che ne risulta è un ambiente in senso lato fluido e funzionale, che abbraccia i punti, le esigenze, le emozioni e incentiva nuovi modi d'uso dello spazio, regalando al protagonista della casa una nuova visione che appartiene sia al presente, ma anche al futuro di vita di quello spazio. La connessione, l'idea di connessione, diciamo, è diversa, nel senso che viviamo in un mondo fatto di connessioni, nello specifico di connessioni non solo legate alla tecnologia, ma soprattutto con noi stessi e con le nostre famiglie, che si è chiaramente dichiarato ancora di più attraverso la pandemia e quello che è successo in questi anni. Ma anche appunto quindi di rapporto con il paesaggio, sempre di più la gente si sta spostando magari dal centro di città o comunque cerca degli spazi anche interno di città in cui ci sia un rapporto con l'esterno, in cui si possa vivere bene all'interno della casa in rapporto con il paesaggio. Per quello che riguarda poi ovviamente le connessioni sono anche quelle tecnologiche, tant'è che sia all'Oft che a Milufarm sono case connesse in qualche modo, che hanno un rapporto con la tecnologia, ma pensiamo sempre che la tecnologia sia a supporto di quello che sono le nostre esigenze, i nostri desideri, ma non sia lei a prevaricarci. Questi sono gli spazi, diciamo, dell'Oft, giusto per capire, poi c'è gli spazi della villa a Milufarm in cui si intuisce praticamente nello spazio, ecco, giusto per spiegare, nella parte di sinistra è la parte, diciamo, pubblica di accesso all'azienda agricola, mentre la parte destra che si va a connettere ma è nascosta dalla parte pubblica è la parte privata dove si innesta questi volumi diamantati in cemento bianco con questa piscina biologica, quindi non ha un sistema di filtrazione naturale e ha questa pedana che si alza e si abbassa, si può camminare sopra e può creare altezze diverse una volta che si vuole utilizzare per i bambini piuttosto che per gli adulti e la parte privata è proprio quella delle camere da letto che si affacciano praticamente sulla piscina e sul patio, mentre che si vede meglio in questa fase qua. Anche l'Oft aveva l'esigenza di avere praticamente un rapporto in qualche modo con l'esterno per cui abbiamo ricavato questa piscina praticamente che esce uscendo dal salone e dalla cucina si butta direttamente in piscina. Direi che poi c'è un filmato molto lungo, andiamo a mangiare. Grazie. 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 Grazie.